ok modifico un po' ok prendo la gomma cancello via le parti che voglio far girare dietro cancello via anche un po' queste che sembra un po' troppa luce ok 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 questo basso un pochino l'opacità un po' vedi magari nuovo livello andiamo a fargli qualche punto luce mettiamo leggero quale diciamo quale 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.